Tragedia Alcus muore durante gli allenamenti un esperto canottiere di 55 anni. La manifattura del lavoro apre porta futuro allo sportello dove domanda e offerta si incontrano. Addio articolo 18, in studio il sottosegretario lavoro Massimo Cassano per spiegare la rivoluzione nel mondo del lavoro. Abbellino Bari non è finita, interrogazione di Forza Italia sul burrascoso match del Partenio. Buonasera diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città ma anche quello che sta accadendo in queste ore. Allora partiamo dalla cronaca, lo avete sentito, una tragedia è venuta poco fa al CUS. Un uomo durante gli allenamenti in compagnia di un amico a bordo di una canoa si è scontrato con un pontile e purtroppo ha perso la vita. Allora ci colleghiamo in diretta con il CUS dove c'è per noi Serena Russo per capire i dettagli di questo tragico incidente. Serena. Sì Alessandra buonasera, io sono qui al CUS per ovvi motivi, ovviamente non ci hanno permesso di entrare con le telecamere. Io sono davanti al pontile dove in questo momento già c'è ancora il cadavere di Nicola Vangialardi, vigile urbano, classe 1959. Si sta aspettando che la ditta autorizzata venga a prenderlo per portarlo nell'obitorio del policlinico. Ovviamente qui c'è molta folla, ci sono colleghi ma anche bambini che purtroppo adesso hanno appena finito la lezione, quindi si sta cercando di tenerli lontano da questa immagine. Poco fa è anche arrivata la moglie insieme al fratello di Nicola Vangialardi, ovviamente tutti in stato di shock. Nelle prossime ore sicuramente sarà predisposta l'autopsia anche per capire meglio le dinamiche di questo incidente a cui nessuno purtroppo ha assistito perché quando si sono accorti di quello che era successo la nave, anzi l'imbarcazione era già capovolta sott'acqua. Stando comunque alle prime ricostruzioni dovrebbe esserci stato uno scontro tra due canoa e su una c'era appunto Nicola Vangialardi insieme al suo compagno di sempre, un carabiniere che fortunatamente non si è fatto nulla di grave, è stato portato al divenere. In questo momento lo stanno sottoponendo a tac. Pare che ci sia stato appunto uno scontro tra queste due imbarcazioni, una delle due, quella di Nicola Vangialardi, è finita sotto un pontile incastrandosi e si è subito rovesciata. Quello che ora bisognerà capire è che se Nicola Vangialardi è morto sul colpo perché ha sbattuto la testa al pontile oppure ha semplicemente perso i sensi e poi invece è morto annegato. Saranno ovviamente i risultati dell'autopsia purtroppo a poter chiarire questo giallo. Adesso si attende appunto la ditta che venga a prendere il cadavere. Al momento non ci sono altre novità. Perfetto, ringraziamo Senena Lusso che ritroveremo poi tra qualche istante perché cercheremo anche magari di dar voce purtroppo agli amici di questa vittima, di questo tragico incidente. Allora, andiamo avanti per parlare di cronaca. Attentato a Dinamitardo la scorsa notte a Bari. Una bomba ha distrutto la vetrina di un negozio di parrucchiere a Iapigia. Gli aggiornamenti da Cristina Ferrini. Nessun avvertimento, nessuna minaccia di estorsione. Il titolare del parrucchiere di Via Salapi ha distrutto la scorsa notte da un ordigno ascoltato dalla polizia. Esclude un attentato di tipo mafioso. Ipotesi invece che gli investigatori della squadra mobile di Bari non mettono da parte. L'esplosione dell'ordigno ha infranto la vetrata del locale, distrutto parte della porta d'ingresso. La bomba era stata collocata davanti alla saracinesca del parrucchiere. L'episodio di ieri, anche se di minori dimensioni, ricorda l'esplosione di quattro giorni fa nella sala giochi di Altamura, dove rimasero ferite sette persone, di cui due ancora in gravi condizioni. E se la mano del racket estorsivo alza il tiro, la criminalità organizzata avanza anche sul fronte delle rapine. Ieri pomeriggio, pochi minuti dopo le 19, è stato preso d'assalto il centro commerciale di fusione tessile in via Zipitelli, nella zona industriale. In tre, armati di pistola hanno fatto eruzione nel capannone e si sono fatti consegnare l'incasso circa 1.500 euro. Il negozio era pieno, almeno una quarantina. I testimoni, i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Stessa scena dieci giorni fa nel Maxi Store Decathlon, sempre nella zona industriale. In due, con il volto coperto da caschi integrali e armati di pistola, hanno minacciato uno dei dipendenti, sono fuggiti con un bottino di 5.000 euro. Cambiamo argomento, una manifestazione unitaria per il lavoro, lo sviluppo e la qualità della vita in Puglia. CGL e Cisle Will tornano in piazza sabato 21 marzo. Oggi si sono riuniti gli esecutivi unitari regionali per approvare un documento su mezzogiorno, sanità e servizi sociosanitari. La ripresa dell'occupazione minima, la Puglia ne è rimasta fuori, spiegano i sindacati. La manifestazione unitaria sarà sostegno di proposte che la politica non può eludere. Ed è ancora bufera dopo la pubblicazione delle intercettazioni tra Gianpaolo Tarantini e Silvio Berlusconi nell'ambito del processo Escort. Il procuratore del Tribunale di Bari, Giuseppe Volpe, ha svolto accertamenti dopo la pubblicazione delle intercettazioni da parte dei media. Da accertamenti compiuti da questo ufficio, sottolinea Volpa, risulta che copia dei files audio integrali delle comunicazioni, poi del pari, resi pubblici, è stato oggetto di richiesta alla cancelleria competente da parte di un unico difensore. Sulla vicenda interviene l'Ordine degli Avvocati, il problema delle fughe di notizia a Bari è molto risalente nel tempo, dice il Presidente dell'Ordine, Manuel Virgentino. C'è evidentemente qualche disfunzione nella gestione delle notizie, commenta anche il Presidente della Camera Penale. Prima di rivolgere sospetti nei confronti dei difensori, sottolinea Sassanelli, sarebbe bene ricordarsi che proprio la Procura ha ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ufficiale di polizia giudiziaria per rivelazione del segreto d'indagine. E parliamo ancora di lavoro, nasce nella Manifattura Tabacchi Porta Futuro, il primo centro servizi per l'orientamento e l'occupazione dedicato ai giovani. Ce ne parla Silvia Dipinto. Non solo una banca dati per far incrociare domanda e offerta di lavoro in modo non burocratico, non semplicemente un ufficio di collocamento per i giovanissimi. Nella ex Manifattura Tabacchi nasce il primo centro servizi per l'orientamento e l'occupazione a Bari, mutuando le esperienze di Roma e Parigi. Si chiama Porta Futuro e sarà operativa già da settembre. Oggi la firma del protocollo d'intesa tra comune e regione. Regione che con 5 milioni di euro praticamente finanzia la quasi totalità dell'intervento tra ristrutturazione, arredi, tecnologie e servizi. Si parte subito con la fase 1 in un'ala della Manifattura di 500 metri quadri. Qui i giovani dell'area metropolitana potranno incontrare le imprese, ma anche trovare accoglienza e formazione su come ci si approccia al mercato del lavoro, dalla operazione più semplice come compilare un curriculum a quella più ambiziosa, fare innovazione. Con l'atelier dell'innovazione, il lavoro bisogna anche giorno dopo giorno costruirlo, reinventarlo, soprattutto pensando alle filiere dell'innovazione che offrono e possono offrire sempre di più opportunità per i giovani. La rivoluzione è nel metodo, spiegano comune e regione, perché mentre saranno già in corso le attività del job center, si ristrutturerà una seconda ala della Manifattura da 2.400 metri quadri, destinata alle start-up d'impresa operativa da marzo 2017. La Manifattura dunque dà luogo di nostalgia a cuore pulsante di un quartiere che ricuce lo strappo con il centro città. Noi vogliamo rammendare le periferie, vogliamo riavvicinare le periferie al centro cittadino, lo facciamo partendo da questo quartiere che ha un forte disagio economico, una forte frammentazione sociale e un problema di criminalità organizzata. Andiamo avanti, è scaduto venerdì scorso il termine per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione per l'edizione 2015 del Corteo Storico di San Nicola. Tra i progetti pervenuti alla ripartizione culture, due relativi ai servizi cosiddetti di trucco e parrucco e uno per l'allestimento di un'area benessere nei giorni clou della Sagra Nicolaiana. Per il progetto il Comune di Bari può contare su un totale di oltre 35.000 euro. Un risultato incoraggiante, commenta l'assessore alle culture Silvio Maselli, se si pensa che è la prima volta in cui l'amministrazione comunale si rivolge ai privati per chiedere di contribuire alla realizzazione del Corteo Nicolaiano. 50 biciclette elettriche a pedalata sissita, a breve saranno a disposizione dei dipendenti comunali, l'ha annunciato il Comune di Bari che le ha acquistate grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Ambiente. Per ottenere il finanziamento il Comune di Bari ha dimostrato di aver proceduto a dismettere delle vetture dell'autoparco comunale. Il progetto ha un importo complessivo di 120.000 euro, 38.000 dei quali a carico del Comune. I lavori per la sistemazione di tutte le postazioni presso gli uffici comunali inizieranno lunedì prossimo per concludersi entro un mese, mentre per la postazione di Palazzo di Città si dovrà aspettare la fine dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso nell'atrio. Politica. Ieri a Bari la convention che ha aperto ufficialmente la corsa di Francesco Scrittulli, candidato unitario del centro-destra verso le regionali di maggio. A Bari i BIG di Forza Italia e di nuovo centro-destra collegato telefonicamente Silvio Berlusconi. Grande assente, Raffaele Fitto. Sentiamo. Per curare la Puglia ci vuole un medico diverso da quello degli ultimi dieci anni. L'appello al rinnovamento arriva da Francesco Scrittulli che dal palco dello Showville apre la corsa verso le regionali di maggio. Lavoro per i giovani, sostegno economico a chi vive con meno di 1000 euro al mese e poi la sanità a alcuni dei temi proposti su cui si concentrerà la campagna elettorale spiega Scrittulli una campagna rigorosamente low cost. Abbatteremo nei primi sei mesi le liste d'attesa, annuncia l'oncologo. Nei primi tre aboliremo ticket e super ticket per le fasce deboli. Altrimenti si va a casa o pronte già le dimissioni in bianco da depositare al notaio assicura l'oncologo con lui sul palco anche Claudia, una donna malata di cancro. Qual è il pugliese che è contento di questa sanità? Della sanità che ha avuto in questi dieci anni. E non parlo soltanto delle lunghe liste d'attesa, non parlo soltanto della tassazione, non parlo soltanto della rivoluzione che c'è stata in campo di cimitero per quanto riguarda gli ospedali. Ne sentirete delle belle oggi. Presenti Giovanni Totti, Maurizio Gasparri e Big di Forza Italia a sostenere Luigi Vitali, neo commissario del partito, grande assente Raffaele Fitto impegnato a Palermo con la convention dei ricostruttori e che per domenica prossima ha chiamato a raccolta i fittiani di Puglia per quella che viene definita una contramanifestazione, l'appello di tutti a superare personalismi e correre insieme per la vittoria del centrodestra. Come annunciato, collegato al telefono interviene Silvio Berlusconi, saluta e ringrazia solo i parlamentari presenti. Noi dobbiamo unire il centrodestra al di là dei protagonisti e dei personalismi. Noi venite con un solo mazionista. Domainica prossima ci sarà una nuova manifestazione dei fittiani, si va alla conta dei numeri? Più manifestazioni ci sono, meglio è. Dopodiché più cose sensate e interessanti per gli elettori si dicono dentro queste manifestazioni invece di alimentare delle polemiche esterili, meglio è ancora. Ora dovremmo cercare di avere lo stesso atteggiamento. un po' spregiudicato andando avanti e cercando di offrire qualcosa di nuovo agli elettori pugliesi. Questa è la nostra preoccupazione. E allora siamo in chiusura di questo spazio ma dopo la pausa pubblicitaria commenteremo i principali fatti di questa giornata dando spazio chiaramente anche alla politica con il giornalista Michele Cristallo. Tra poco.